Ben ritrovato Monsignore, grazie per la sua disponibilità. Le rivolgo oggi le domande che i giornalisti dei media vicentini desiderano rivolgerle in occasione della Pasqua. Innanzitutto abbiamo iniziato la settimana santa, con quale spirito vivremo, celebreremo la Pasqua quest'anno? Lo vivremo con spirito nuovo e cuore nuovo, come dice la Bibbia. Non avremmo desiderato questa Pasqua in questo modo, non l'avremmo voluta assolutamente, ma può essere un'occasione. Quando dico cuore nuovo vuol dire che sia all'interno della famiglia, nelle relazioni che ci sono, sia nell'attesa di questa Pasqua, c'è una dimensione nuova che non è più legata alla partecipazione pur legittima e doverosa ai riti nelle proprie chiese, ma all'interno della propria famiglia che diventa la piccola chiesa domestica. E quindi si vive spiritualmente, si vive attraverso le varie anche celebrazioni a cui si possono assistere, nelle televisioni locali, la Messa del Papa, la Messa del Vescovo, nelle radio locali, Radio Oreb e altre. E quindi noi quest'anno abbiamo un'occasione che non possiamo perdere, di vivere con maggiore intensità, con maggior spiritualità, pur in una dimensione diversa, augurandoci che possa presto passare questa situazione così dolorosa, ma anche carica di speranza. Questa emergenza ha allontanato forzatamente i fedeli dalle chiese, la vita delle parrocchie si è fermata, un po' come ogni altra attività, eppure la sensazione è che per molti in questo momento la fede sia una riscoperta. Anch'io sono di questa opinione, altri me l'hanno chiesto, e sono convinto che questa situazione produce questa realtà positiva, cioè di sentire con maggior intensità, con maggior anche spiritualità, questi eventi della Pasqua. Voglio ricordare anche alcuni momenti della vita della chiesa, che hanno impressionato molto e hanno colpito il cuore, la mente, non solo di una singola persona, ma delle famiglie e di tutta la comunità. E alludo, come voi ben sapete, a quel affidamento che noi abbiamo fatto alla Madonna di Monteberico, come diocesi di Vicenza, ma aperto non solo alla nostra città, al nostro territorio, ma a tutto il paese e a tutta la famiglia umana. Ed è stata partecipata, molti hanno chiesto anche il testo e mi risulta che lo recitano anche nelle loro famiglie. Poi l'altro grande momento che abbiamo vissuto qui a livello non solo di chiesa universale, ma direi anche di tutte le persone che hanno avuto la possibilità di vedere il Papa da solo, salire tutta la scalinata che portava davanti al Sagrato di San Pietro e poi lì fermarsi a pregare, a riflettere, interpretando la voce di tutti gli uomini e le donne di questo mondo. Sono segni che resteranno impressi proprio in occasione di questa Pasqua così singolare. Nonostante queste manifestazioni di devozione, di fede, di spiritualità, molti si interrogano. Se Dio esiste ed è buono, perché questa epidemia, perché tanti morti saranno forse un castigo di Dio? Il fondamento della nostra fede è Gesù Cristo e noi dobbiamo sempre fare riferimento a Lui. Gesù Cristo non è venuto per condannare, i peccatori, per castigare i peccatori, è venuto per salvare i peccatori. Abbiamo presente i testi meravigliosi, quello ad esempio quando di fronte alla peccatrice, che altri che si ritenevano giusti intendevano lapidare, mentre pone la domanda chi di voi è senza peccato? Per primo scagli la pietra e poi donna, nessuno ti ha condannata, neppure io ti condanno. Gesù semmai è venuto a chiamarci alla conversione, alla conversione dei peccati e questo è, diciamo, chiesto a tutti in ogni tempo, in ogni luogo, una volta che si abbraccia la fede in Gesù Cristo, ma non temere i castigli del Signore, ma invocare la sua misericordia sicuri che Lui è venuto per salvare, non per condannare, non per punire. La Chiesa ha cercato di essere vicino alle persone attraverso la preghiera, le celebrazioni trasmesse attraverso i media e anche attraverso la carità, perché l'emergenza sanitaria porta con sé anche un'emergenza economica. È vero che il primo momento nelle famiglie è stato di un maggior senso della preghiera, di un maggior senso anche della comunità, si è sentito di dover amare Dio in un modo particolare, ma nella nostra vita di credenti, di cristiani, l'amore a Dio deve essere sempre coniugato con l'amore al prossimo. E allora ci sono dei gesti che noi abbiamo compiuto, perché anche da parte mia la prima attenzione è stata quella nei confronti dei più fragili, degli emarginati, dei senza fissa dimora e insieme alla Caritas direi che c'è un rapporto quotidiano di comunicazione con il direttore della Caritas. Abbiamo pensato di accogliere anche i senza fissa dimora nel tempo in cui sarebbero stati lungo le nostre strade, quindi con tutti i pericoli per sé e anche per gli altri. Abbiamo costruito tre tensostrutture, due nella sede della Mensa Santa Lucia e una nel pensionato studentesco San Marco, in modo che possano rimanere lì, ricevere anche il pacco alimentare e restare tranquilli. Adesso le giornate sono anche belle, ma per tutti, per loro e anche per noi, c'è questa proibizione di uscire liberamente. E in questo senso anche questa dolorosa situazione ha creato, perché io dico sempre dal male possono sorgere germi di bene, ha creato maggior attenzione, ha creato maggior sensibilità verso i poveri. affrontare questa emergenza richiede una buona dose di autodisciplina. Lei è stato sportivo in gioventù. Cosa si sente di dire al mondo dello sport che ha dovuto rinunciare in questo momento a tanti sogni e aspirazioni? È chiaro che il mondo dello sport è legato ad alcune esperienze che sono prevalentemente collettive. L'esperienza dell'allenamento, l'esperienza della partita, l'esperienza del gioco di squadra, dello stadio, del tifo, tutto questo oggi non è possibile in questo momento. Ma come recuperarlo a livello individuale e far sì che tutta questa esperienza che era prevalentemente pubblica, per certi versi spettacolare, diventi invece un momento di forte riflessione, l'allenamento dello spirito, il gioco di squadra all'interno della famiglia, la possibilità di mantenere anche tonico il proprio corpo attraverso quegli strumenti che oggi sono possibili, tipo tapirulanti, tipo la ciclette. Anch'io stesso ogni giorno mi concedo alcuni minuti, più volte staccati nel tempo, proprio per tenersi anche non in forma, ma per tenere il proprio corpo sano e un corpo sano permette di avere anche una mente sana. Forse è ancora presto per fare un bilancio, ma quale insegnamento potremmo trarre da questa esperienza? Ma credo che gli insegnamenti sono tanti, però gli insegnamenti vanno colti. Se noi viviamo in modo superficiale, in modo arrabbiato, questo tempo perché ci proibisce di uscire, perché limita la libertà in spazi qualche volta anche molto ristretti, allora non si vede l'ora di finire e poi tornerà tutto come prima. Se invece noi approfittiamo di questa occasione, dico dolorosa, di dolore e di speranza, possiamo uscire da questa situazione rinnovati, rinnovati nello spirito, cioè vedere in modo diverso la nostra persona, ad esempio considerare la nostra fragilità, la nostra precarietà. E poi secondo me ci aiuta anche a vivere quella seconda faccia, diciamo, della medaglia di due grandi comandamenti che il Signore ci ha lasciato. L'amore a Dio e impariamo ad amarlo nella preghiera, nella vita familiare, nella lettura delle Sacre Scritture e l'amore al prossimo. L'amore al prossimo come se stessi, vuol dire la cura di se stesso, osservando queste norme, restando a casa, un rapporto sobrio anche nei confronti del cibo e altre cose. Questo che è un'attenzione per sé diventa attenzione anche per gli altri, cioè tu ami gli altri come ami te stesso. E allora in questo senso, nel rispetto reciproco, ci auguriamo di uscire presto e di uscire rinnovati da questa esperienza. Quale messaggio, quale augurio per tutti i giornalisti e gli operatori dei media Vicentini in occasione della Pasqua? Beh, intanto un ringraziamento. Ho avuto l'impressione, la sensazione che fossero moltiplicati anche questi incontri, evidentemente non a livello personale, non a livello fisico, ma mi sono arrivate tantissime anche richieste di interviste, di riflessioni che sono state riportate anche dai giornali, dalle tv. E allora io voglio ringraziare insieme a tutte le altre persone che hanno e stanno affrontando questa situazione, ma anche questo della comunicazione. La comunicazione, quella vera, quella autentica, quella che mira a portare conforto dentro un sano realismo a tutti coloro che leggono, a tutti coloro che vedono, a tutti coloro che ascoltano, è un compito che a me pare sia stato veramente esercitato, vissuto in modo straordinario, perché ha richiesto forse più lavoro, questo è il paradosso. restando a casa si è lavorato più di prima quando si andava anche nei luoghi a fare le interviste. E quindi un ringraziamento che viene dal cuore a tutti i giornalisti, a tutti gli operatori delle televisioni, delle radio. Auguri di buona Pasqua a tutti.